La quinta giornata concludiamo nella città capologo di provincia, Ascoli Piceno, è questo ovviamente un momento di festa ma anche un momento di riflessione come sempre intorno al ruolo della polizia locale, è un ruolo importantissimo, centrale per quanto riguarda la sicurezza delle nostre comunità, soprattutto la sicurezza integrata, quella che mette insieme la sicurezza pubblica che è lotta e contrasto della criminalità e la sicurezza urbana per rendere le nostre città e i nostri ambienti più vivibili, ad esempio pensiamo al contrasto, all'abusivismo, pensiamo alla tutela dell'ambiente, pensiamo alla prevenzione nei quartieri, ad esempio qui in Ascoli oggi verrà presentata un'unità cinofola per il contrasto e la prevenzione per quanto riguarda la droga nei pressi delle istituzioni scolastiche. La polizia locale su tutte queste tematiche c'è e si deve integrare con le altre forze di polizia, quindi attraverso un percorso di sicurezza integrata che la regione Marche promuove in tutta la sua pienezza, infatti approveremo tra qualche giorno un protocollo d'intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Ministro dell'Interno sulla sicurezza integrata, perché da qui passa l'esigenza di sicurezza dei nostri territori.